La discussione per mettere mano a una revisione dei trattati non sarà semplice, ma quel che emerge dalla dichiarazione di oggi è che inizia una fase costituente, che mi auguro feconda, arricchita dalla diversità delle opzioni e comunque dalla unità di intenti che gli Stati membri sapranno certamente portare al cantiere comune. E con questo auspicio, accompagnato da un augurio sincero di buon lavoro, che vi invito alle varie carici per brindare all'Europa, alla nostra Europa, all'unione dei nostri popoli.